Ben trovati da Naveglia Salerno all'appuntamento con l'informazione curata da Radio Alfa. Ancora il maltempo in primo piano, i lavori necessari per risolvere lo stato di crisi che coinvolge Salerno e la sua provincia a causa dell'alluvione saranno realizzati con fondi della regione in attesa che arrivino i poteri commissariali dal Consiglio dei Ministri. Lo ha assicurato Edoardo Cosenza, assessore regionale alla protezione civile, precisando che le disponibilità al momento ammontano a 5 milioni di euro. L'assessore stamani ha preso parte alla conferenza dei servizi in prefettura a Salerno, indetta dall'unità di crisi, durante la quale sono stati illustrati due progetti per riparare la condotta del basso Sele gravemente danneggiata dalla piena del fiume Sele la scorsa settimana. Uno dei due progetti dovrebbe riportare alla normalità l'erogazione dell'acqua entro Natale, questo almeno l'auspicio espresso dall'assessore Cosenza. La città di Agropoli è uscita dallo stato di crisi per quanto riguarda l'emergenza idrica. A confermarlo l'assessore provinciale alla protezione civile di Salerno, Antonio Fasolino, in veste di coordinatore dell'unità di crisi predisposta in prefettura. 20.000 persone, dice, sono dunque uscite dallo stato di crisi. Ci saranno comunque turnazioni per consentire l'erogazione dell'acqua per molte più ore rispetto alle iniziali due ore previste. Questo ha concluso Fasolino grazie al lavoro riuscito di bypass alto e basso Sele che ha interessato appunto il comune di Agropoli. La strada provinciale che collega i centri costieri cilentanni di Marina di Camerota e Palinuro è chiusa da questa mattina a causa del crollo di parte del costone roccioso che sovrasta la strada sicuramente a causa delle forti piogge che in queste ore si stanno abbattendo sulla zona. L'arteria, una delle più trafficate del basso occilento, sarà oggetto di una verifica domani ad opera dei tecnici della provincia per verificare il danno provocato dal crollo e i tempi di messa in sicurezza del costone. Al momento del crollo un'auto in transito con due persone a bordo è rimasta illesa solo per una fortunata coincidenza. Cambiamo argomento. Questo continuo appolla la protesta dei dipendenti della Ergon, società partecipata del consorzio rifiuti Bacino Salerno 3 che gestisce la raccolta dei rifiuti in diversi comuni del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro. Ad incrociare le braccia sono stati 14 dei 7 mila operai della Ergon che ieri hanno occupato in maniera pacifica gli uffici amministrativi delle società e località Sant'Antuono di Polla. Gli operai rivendicano il diritto di percepire le diverse mensilità arretrate loro spettanti. La protesta terminerà, fanno sapere le maestranze, dal momento in cui ci sarà la certezza della riscossione di almeno alcune delle mensilità arretrate. E adesso la cronaca è di ruoti di potenza e si chiama Rocco Mancino, l'uomo di 47 anni, arrestato ieri dalla polizia con l'accusa di aver picchiato selvaggiamente e poi violentato una donna di 85 anni di potenza. I particolari dell'arresto sono stati resi noti dal dirigente della squadra mobile, Barbara Strappato, nel corso di un incontro con i giornalisti. L'uomo non è nuovo a simili delitti. È infatti il quarto episodio di violenza sessuale commesso dal 1993 ad oggi. Il primo caso riguarda una familiare di soli 10 anni, a cui sono seguiti altri due stupri che hanno avuto come vittime sempre donne anziane. Per questi fatti Mancini ha scontato 10 anni di carcere dal 1999 alla fine del 2008. Atti vandalici sono stati compiuti la notte scorsa a Ponte Cagnano nella scuola materna di Baroncino. Gli autori hanno forzato le finestre dell'edificio e si sono introdotti nella scuola lasciando escrementi in vari punti. Sono stati anche aperti armadietti, trafugato materiale didattico ed imbrattato l'ingresso principale della struttura. Il sindaco Ernesto Sica, dopo aver ricevuto le segnalazioni, ha emesso un'ordinanza di sospensione delle attività didattiche fino al 19 novembre, compreso allo scopo di salvaguardare la salute e l'igiene dei bambini e per permettere interventi di disinfezione ai locali e la riparazione dei danni compiuti dai vandali. Ci sarà anche Archeo Virtual, vetrina delle tecnologie realizzate in Europa nel settore dei beni culturali, alla tredicesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum in programma nella città dei Templi da domani fino al 21 novembre per iniziativa di provincia di Salerno e regione Campania. Archeo Virtual presenterà anche le ultime novità tecnologiche che attraverso un semplice SMS e una mail e il possesso di uno smartphone permettono di navigare nella topografia delle città di maggiore interesse artistico e culturale. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha allestito l'Archeo Virtual al 18 progetti tridimensionali che permettono al visitatore di viaggiare nel tempo esplorando gli insediamenti ad esempio della viglia di Oplontis e dell'antica Cartagine. Un'ultima da Buccino, Musei in Musica, l'iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali in programma sabato prossimo coinvolgerà anche il Museo Archeologico Nazionale Marcello Gigante dove si potranno compiere visite guidate a partire dalle 21 fino alle 2 con momenti itineranti di musica. Con questa notizia si chiude questo appuntamento. Da parte mia Naveglia Salerno e dalla redazione di Radio Alfa grazie per l'attenzione e vi auguriamo buona serata.